Ciao Marcello, ciao a tutti i fratelli e sorelle Juventinazzi di Topland da parte del vostro Ciao Marcello, approfitto di questa piccola pausa nel mercato della Juve perché Postman i video sui nuovi acquisti li fa solo e soltanto quando c'è l'ufficialità da parte della Juventus e quindi io approfitto da che mi è arrivata la scorsa settimana per mostrarti e mostrarvi a tutti quanti la nuova maglia bianconera della Juventus eccola qua, questa è la nuova maglia Home, io ero molto scettico su questa scelta delle strisce più larghe che poi mi sono dovuto ricredere perché tra l'altro sono molto contento di questo abbinamento tutto black neri saranno i pantaloncini, eccoli qua, questi sono i nuovi pantaloncini, ho preso anche quelli neri saranno i calzettoni per questo look più aggressivo, per intimorire ulteriormente che ce ne fosse bisogno i nostri avversari voglio mostrarti Marcello anche di chi l'ho presa, di quale giocatore, qual è la personalizzazione che ho fatto mettere in questa maglia beh, caro Marcello, ho fatto un atto di fede, un atto di speranza, perché ho scelto la sua maglia detto questo, caro Marcello, io vi saluto, vi rimando al mio prossimo video che ci sarà venerdì perché giovedì sarà il suo momento ciao a tutti, al prossimo video e fino alla fine forza Juve, ciao Marcello